Tutto è partito dalla denuncia di Maurizio Cerbo, segretario nazionale di Rifondazione Comunista, che ha puntato il dito su una iniziativa di un'associazione, secondo l'esponente politico di Chiara Matricio Fascista, che sabato 27, nel giorno della memoria dedicato alle vittime dello sterminio nazista, ha chiesto uno spazio pubblico al comune di Bellante. Mi sembrava una cosa vergognosa e quindi ovviamente sono intervenuto per denunciare questa cosa, perché penso che i comuni debbano vietare, soprattutto in una giornata come questa, iniziative che sono un oltraggio alla memoria di milioni di esseri umani sterminati dal fascismo tedesco, con la complicità tra l'altro del fascismo italiano, cosa che non va mai dimenticata. Leggo oggi che questa iniziativa è stata spostata in una pizzeria, quindi vuol dire, e questo mi fa piacere, che il comune se ne è accorto, non capisco perché non si è intervenuto prima, perché non dovrebbero essere concessi, essendo tra l'altro un comune governato dall'amministrazione in centro-sinistra, non dovrebbero essere date le sale, a mio parere, a chi non si riconosce nei principi della Costituzione e fa propaganda fascista. Tra l'altro c'è stato anche uno scambio di post abbastanza eloquente su questa vicenda. Hanno scritto zecche infami e noto che l'espressione zecca veniva usata dall'SS nazista nei confronti degli ebrei e dei comunisti, che venivano mandati dai lager perché secondo loro bisognava liberarsi di questi parassiti che avvelenavano la società. Io sono onorato di essere una zecca e di essere un antifascista.